adesso andrò a fare questo pezzo segnato qua ho già ancorato il filo ho già fatto già tre punti di andata per ancorare il filo e adesso proseguo grazie 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 ora proseguiamo per fare quest'altro pezzo grazie 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 ho quasi finito l'andata qui grazie e con questo ho finito tutte le andate. adesso devo tornare indietro e fare i ritorni dietro ovviamente come potete vedere il retro è perfetto Grazie.